Una ciliegia tira l'altra, si sa, ma la ciliegia di Marostica attira tanta gente, tantissima, a vedere i numeri della 79esima edizione della festa della ciliegia marosticense. Un'edizione da record con 12.000 presenze in città e un compatto gruppo di associazioni, aziende, produttori, agricoltori e coltivatori in grado di sposare le proposte turistiche della cittadina murata e di un territorio in continua crescita. L'intera economia pedemontana ha saputo infatti trarre vantaggio da questa manifestazione, contribuendo al tempo stesso alla promozione e valorizzazione del territorio. Il brand di Marostica si arricchisce così di un altro tassello importante che va nella direzione di avere una città con un'identità forte a livello mondiale legata al mondo degli scacchi. Per quanto riguarda le premiazioni della mostra a mercato, erano 80 le cassette di ciliegi in gara per le otto diverse qualità previste dalla competizione. Una produzione che, nonostante le difficoltà delle prime settimane dovute al maltempo, ha ottenuto una certificazione di qualità piuttosto elevata. Nel corso della manifestazione è stata anche presentata una novità per il territorio, un dolce nuovo di zecca che va sotto il nome di Pecca del Salbaneo, ovvero l'impronta del Salvanello, un folletto piuttosto ricorrente nel folklore locale che ha sfornato una delizia a base di ciliegie di marostiche IGP, torcolato DOC e olio della Pede Montana. Veramente ha dato degli ottimi risultati, facendo vedere che lavorando in squadra si possono ottenere risultati eccellenti e devo dire che come amministrazione sono contento perché abbiamo anche dei buoni report per tutte quelle attività fuori mura, diciamolo fuori centro storico, che hanno coinvolto gli agriturismi e le passeggiate proprio organizzate per portare i cittadini e turisti fuori a sconoscere il nostro bellissimo territorio. Grazie a tutti.